Dice il Salmo, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Gesù oggi nel Vangelo dice, a chi posso paragonare questa generazione? Essa è simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti i compagni gridano, e che caspita, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Insomma, è venuto Giovanni il Battista che non mangia, non beve, austero, e dicono, è indemoniato, caspita, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono, ecco, è un mangione, è un beone, un amico di pubblicani e di peccatore, ma la sapienza, l'aspertizia, l'intelligenza, la vera, è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Carissimi amici, apriamo un pochettino gli occhi, e specialmente il cuore, e chiediamo la semplicità di cuore, perché beati i poveri di spirito, perché di essi è la felicità, è il regno dei cieli, tristi, quelli contorti. Una buona giornata, ciao ciao.